L'assoluta desolazione di quel paesaggio cominciava a fare il suo effetto. Seduto riflettevo sulla situazione sforzandomi di ricordare un qualsiasi punto di riferimento che mi aiutasse a togliermi d'impaccio. Se solo avessi potuto ritrovare l'oceano tutto sarebbe stato più semplice perché sapevo che dall'alto della scogliera avrei potuto vedere l'isola di Groa. Posai il fucile e mi inginocchiai dietro un masso per accendere la pipa. Quindi guardai l'orologio. Erano quasi le quattro e mi stupì di quanto mi fossi allontanato da Kerselec dopo essere partito allo spuntare dell'alba. Il giorno prima, quando mi ero fermato con Gulvan sulle scogliere sotto Kerselec per contemplare la triste landa dove mi ero perso, queste colline mi erano apparse come una prateria che si estendeva fino all'orizzonte e sebbene sapessi bene quanto la distanza potesse rivelarsi ingannevole, non mi accorsi affatto che quella che da Kerselec appariva come una semplice successione di depressioni erbose, era in realtà una serie di ampia vallate coperte di ginestre spinose ed erica, e che quelli che avevo scambiato per massi sparpagliati erano in realtà enormi pareti di granito. «E' un brutto posto per un forestiero», mi aveva detto il vecchio Gulvan. «Sarebbe meglio che prendeste una guida». Io gli avevo risposto «Non mi perderò di sicuro». In quel momento, mentre sedevo fumando con la brezza marina che mi soffiava sul viso, non potevo che riconoscere di essermi perduto. Dunque, vedevo solo brughiera, coperta di ginestra in fiore ed erica, e massi di granito. Non c'era un albero in vista, e tantomeno una casa. Dopo un po' ripresi il fucile, e voltate le spalle al sole, prosegui il cammino. Era del tutto inutile seguire il corso di uno dei ruscelli rumoreggianti che ora qui e ora là incrociavano i miei passi, perché, invece di scorrere verso il mare, andavano verso l'interno per finire in qualche avvallamento della brughiera dove davano origine a stagni circondati da canneti. Ne avevo seguiti parecchi, ma mi avevano sempre portato in zone paludose o mute pozze d'acqua da cui subito si innalzavano in volo vocianti beccaccini in preda alla paura. Cominciavo a sentirmi stanco, e il fucile mi faceva male ad una spalla nonostante la doppia imbottitura. Il sole era sempre più basso sull'orizzonte, e lo vedevo splendere all'altezza dei miei occhi illuminando il giallo delle ginestre e gli specchi d'acqua. Mentre camminavo, la mia ombra gigantesca sembra volermi guidare, allungandosi quasi ad ogni passo. Le spine delle ginestre mi graffiavano gli stivali e scricchiolavano sotto i piedi, facendo piovere fiori sulla terra bruna, mentre le felci si piegavano e oscillavano al mio passaggio. Dai ciuffi di Erika uscivano conigli che subito sparivano tra le felci, e nel fitto delle piante acquatiche sentivo risuonare il richiamo assonnato delle anatre selvatiche. Una volta una volpe mi attraversò la strada, e poi, mentre sostavo per bere ad un ruscello più impetuoso degli altri, dal canneto di fronte si alzò in volo un airone, battendo lentamente le ali. Mi voltai a guardare il sole che sembrava essersi disteso sulla campagna. Decisi che a quel punto non aveva alcun senso continuare e che avrei dovuto risolvermi a passare una notte nella brughiera, e mi lasciai cadere a terra ormai esausta. I raggi inclinati del sole della sera mi scaldavano il corpo, ma la brezza marina cominciava a farsi sentire, brividi freddi risalivano poco a poco dai miei stivali bagnati. Alti sopra la mia testa, i gabbiani volteggiavano nell'aria come pezzetti di carta bianca. Da qualche stagno lontano un chiurlo solitario lanciava il suo richiamo. A poco a poco il sole tramontò sulla pianura arrossando lo zenith con i suoi ultimi pagliori. Osservai il cielo farsi via via oro pallido, poi rosa e infine rosso brace. Sopra di me danzavano nugoli di moscerini e in alto, nell'aria immobile, un pipistrello continuava a tuffarsi e risalire senza sosta. Le mie palpebre cominciarono a chiudersi. Mentre cercavo di scacciare quella sonnolenza, un rumore improvviso tra le felci mi spinse a rialzarmi. Aguzzai la vista e davanti a me vedi un grosso uccello che si librava fremente nell'aria. Per un istante lo guardai fisso, incapace di muovermi. Poi qualcosa mi passò accanto tra le felci e l'uccello si innalzò rapido. Descrisse un cerchio e si tuffò sparendo tra i cespugli. In un attimo mi ritrovai in piedi, guardando in mezzo alla vegetazione. Da un vicino cespuglio di Erika mi giungevano i suoni di una lotta e poi fu di nuovo silenzio. Feci qualche passo in avanti con il fucile pronto, ma quando giunsi sul posto rimisi il fucile sotto il braccio e restai immobile, attonito. Sul terreno giaceva una lepre morta e su di essa troneggiava trionfante uno splendido falcone con gli artigli ben piantati nel collo e nel fianco della sua preda. Ma quello che mi lasciò stupefatto non fu la vista di quel falcone posato sulla preda. Era uno spettacolo cui avevo assistito più di una volta. Il fatto era che quel falcone portava legato alle zampe una sorta di laccio, da cui pendeva un pezzo rotondo di metallo simile ad un sonaglio da slitta. L'uccello mi guardò con i suoi fieri occhi gialli e poi si piegò sferrando un colpo alla lepre con il suo becco adunco. Quasi contemporaneamente udì dei passi avvicinarsi rapidi tra le eriche e una ragazza apparve nella radura. Senza degnarmi di uno sguardo si avvicinò al falcone e accarezzandolo sul petto con la mano guantata lo allontanò dalla lepre. Poi estrasse un minuscolo cappuccio, lo infilò sulla testa dell'uccello tenendolo sempre in equilibrio sul guanto e quindi si chinò per prendere la lepre. La fanciulla passò una cordicella attorno alle zampe dell'animale assicurandone l'altra estremità alla sua cintura. Poi fece per tornare sui suoi passi tra la vegetazione. Mentre mi passava accanto mi tolsi il cappello e lei diede finalmente segno di essersi accorta della mia presenza piegando impercettibilmente il capo. Ero così stupito e preso dalla scena appena avvenuta davanti ai miei occhi che non pensai minimamente che quella poteva essere la mia salvezza. Per fortuna mentre la ragazza si stava allontanando capì che se quella notte non volevo dormire in quella landa battuta dal vento avrei fatto meglio a spiccicare qualche parola prima che fosse troppo tardi. Quando cominciai a parlare lei ebbe un attimo di esitazione mentre facevo un passo avanti vidi un'espressione di paura nei suoi occhi bellissimi. Ma quando le spiegai umilmente la mia spiacevole situazione il suo viso arrossì e mi guardò meravigliata. «Certamente non venite da Kerselak», disse. La sua voce suave non aveva nulla dell'accento bretone né di qualsiasi altro accento a me noto. Eppure vi era qualche cosa che avevo udito prima, un che di caratteristico e nello stesso tempo di indefinito, come il motivo di una vecchia ballata che riemerge dal passato. Le spiegai che ero americano, che non conoscevo il finister e che vi ero venuto a caccia per divertirmi. «Un americano», ripeté con lo stesso strano tono melodioso. «Non ho mai visto un americano prima d'ora». Per un attimo rimase in silenzio e poi riprese. «Se anche camminaste tutta notte e aveste una guida non riuscireste mai ad arrivare a Kerselak». «Ecco una notizia davvero piacevole». «Ma», ripresi io, «se solo trovassi la casa di un contadino potrei sempre sperare in un po' di cibo e in un posto dove riposare». Il falcone che teneva sul polso sbatté le ali e scosse il capo. La fanciulla ne lisciò il dorso lucente e mi lanciò un'occhiata. «Guardatevi intorno», disse gentilmente. «Riuscite a scorgere la fine di questa landa. Guardate a nord, a sud, a est e ad ovest. Ravvisate altro che non siano brughiera e felceto». «No», risposi. «La brughiera è selvaggia e desolata. È facile entrarvi, ma a volte chi entra non ne esce più. Non ci sono case di contadini qui». «Bene», dissi. «Se vorrete indicarmi in quale direzione si trova Kerselak, domani la raggiungerò. Non mi prenderà certo più tempo di quello impiegato per giungere sin qui». La fanciulla mi guardò nuovamente con un'espressione quasi di pietà. «Ah», disse. «Arrivare qua è facile e servono ore. Tornare diverso. E possono correre secoli». La guardai sbalordito e poi decisi che dovevo averla fraintesa. Allora, prima che avessi modo di rispondere, la ragazza estrasse un fischietto dalla cintura e vi soffiò dentro. «Restate qui e riposatevi», mi disse. «Venite da lontano e siete stanco». Si raccolse la gonna a pieghe e, invitandomi a seguirla, si addentrò con grazia in mezzo alle ginestre spinose fino ad una roccia piatta circondata dalle felci. «Giungeranno tra breve», disse, e sedutasi ad un'estremità mi invitò a fare altrettanto sul lato opposto. La luce del tramonto cominciava a trascolorare e una stella solitaria già brillava nel cielo attraverso una bruma rosata. Sopra le nostre teste, diretto a sud, passò uno stormo di anatre, nella tipica formazione a triangolo, e dalle paludi circostanti ci giunse il richiamo dei pivieri. «È molto bella questa brughiera», disse la fanciulla a bassa voce. «Bella, ma crudele con gli stranieri», le risposi. «Bella e crudele», ripeté in modo sognante. «Bella e crudele». «Come una donna», dissi io stupidamente. «Ah!», gridò lei, trattenendo il respiro, e mi guardò. I suoi occhi scuri incontrarono i miei, e pensai che fosse arrabbiata o spaventata. «Come una donna», ripeté sottovoce. «Com'è crudele parlare così!» Poi, dopo una pausa, come se parlasse ad alta voce a se stessa. «Com'è crudele che lui parli così!» Non so che scusa trovai per questa mia frase sciocca, sebbene inoffensiva, ma mi accorsi che la fanciulla appariva così turbata da indurmi a pensare di aver detto qualche cosa di terribile senza saperlo, e ricordai con orrore le trappole e i trabocchetti che la lingua francese riservava agli stranieri. Mentre cercavo di immaginare che cosa potessi aver detto, dalla brughiera giunse un suono di voci, e la fanciulla si alzò in piedi. «No», replicò con una parvenza di sorriso sul suo viso pallido. «Non accetterò le vostre scuse, monsieur, ma mi piacerà dimostrarvi che avete torto e questa sarà la mia vendetta!» «Guardate, ecco Astura e Raul!» Nella luce incerta del crepuscolo apparvero due uomini. Uno teneva la sacca sulle spalle, l'altro reggeva davanti a sé un cerchio come un cameriere porta a un vassoio. Il cerchio era fissato alle sue spalle da cinghie, e lungo il bordo erano posati tre falconi incappucciati, muniti di tintinnanti sonagli. La ragazza si fermò davanti al falconiere, e con una rapida torsione del polso trasferì il suo falcone sul cerchio, dove subito il rapace si accomodò tra i suoi simili che agitarono le teste e arruffarono le penne, tanto che i sonagli dei loro getti tornarono a tintinnare. L'altro uomo si fece avanti, e dopo essersi inchinato rispettosamente, prese la lepre e la infilò nel carniere. «Questi sono i miei picchià», disse la giovane rivolgendosi a me con garbata dignità. «Raul è un bravo fauconier, e un giorno ne farò un grand veneur. Astor è incomparabile». Sempre in silenzio, i due uomini mi salutarono rispettosamente. «Non vi ho detto, monsieur, che vi avrei provato che avete torto?» Lei continuò. «Questa, dunque, sarà la mia vendetta. Che mi facciate la cortesia di accettare cibo e riparo nella mia dimora?» Prima che potessi rispondere, lei parlò con i falconieri che partirono all'istante tra l'erica. Poi, dopo avermi rivolto un gesto aggraziato, li seguì. Non so se riuscì a farle capire quanto le fossi grato, ma sembrò compiaciuta di ascoltarmi mentre camminavamo tra l'erica bagnata di rugiada. «Non siete troppo stanco, vero?» mi chiese. La sua presenza mi aveva fatto dimenticare del tutto ogni fatica, e glielo dissi. «Non pensate che la vostra galanteria sia un po'... fuori moda?» mi chiese. E poiché dovetti sembrarle confuso e umiliato, aggiunse con tono gentile. «Oh, mi piace, mi piace tutto quello che è vecchio stile, ed è una delizia sentirvi dire cose tanto gentili». Intorno a noi la brughiera si stendeva immobile, avvolta in un velo spettrale di nebbia. I pivieri avevano cessato i loro richiami, i grilli e tutte le altre piccole creature dei campi tacevano al nostro passaggio, ma avevo quasi l'impressione di sentirli riprendere i loro canti dietro di noi. Più avanti, i due alti falconieri avanzavano rapidi in mezzo all'erica, e il debole tintinio dei sonagli dei rapaci giungeva alle nostre orecchie come il mormorio di lontani rintocchi di campane. All'improvviso, tra la nebbia, apparve uno splendido segugio seguito da un altro e da un altro ancora, fino a quando una mezza dozzina o più ci circondarono, saltando attorno alla giovane che mi stava accanto. Lei li accarezzò e li calmò con la mano guantata, rivolgendosi loro con strani termini che ricordavo di aver letto in antichi manoscritti francesi. Poi i falconi sul cerchio portato dal falconiere che ci precedeva cominciarono a sbattere le ali e a gridare, e da qualche parte, fuori dalla vista, si diffusero per la brughiera le note di un corno da caccia. I segugi balzarono via e scomparvero nel crepuscolo, i falconi sbatterono le ali stridendo, e la ragazza cominciò a cantare sul motivo del corno. Chiara e soave, la sua voce si innalzò nell'aria della notte. Mentre ascoltavo quella voce melodiosa, innanzi a noi apparve una massa grigia che si faceva sempre più nitida, e il corno risuonò gaillamente tra il tumulto dei segugi e dei falconi. Una torcia brillò sul portone, una luce uscì a fiotti da una porta che si apriva, e attraversammo un ponte di legno che tremò sotto i nostri passi per poi sollevarsi dietro di noi con uno scricchio lio, mentre superavamo il fossato, prima di entrare in una piccola corte dal selciato di pietra interamente circondata da mura. A una porta uscì un uomo, e dopo essersi inchinato in segno di saluto, forse una coppa alla fanciulla. Lei la prese, vi accostò le labbra, e poi, dopo averla abbassata, si rivolse a me dicendo a voce sommessa, vi do il benvenuto. In quell'istante sopraggiunse uno dei falconieri con un'altra coppa, ma prima di offrirmela la porse alla ragazza che la assaggiò. Il falconiere fece per riprenderla, ma lei, dopo un attimo di esitazione, fece un passo in avanti e me la offrì con le sue mani. Capì che si trattava di un gesto di estrema benevolenza, ma non compresi al momento che cosa si volesse da me, e non portai subito la coppa alle labbra. La fanciulla arrossì di colpo, e compresi che dovevo agire subito. «Mademoiselle», balbettai, «lo straniero che avete voluto salvare da pericoli di cui mai potrà rendersi conto, vuota questa coppa in segno di omaggio alla più gentile e leggiadra ospite di tutta la Francia». «Nel suo nome», mormorò lei facendosi il segno della croce mentre vuotavo quel calice. Poi, varcando la soglia, si voltò verso di me con un gesto grazioso e, presa la mia mano tra le sue, mi fece accomodare nella casa, ripetendo «Siete il benvenuto, davvero, siete il benvenuto» nello chateau d'Is. La mattina seguente fui svegliato dal suono del corno e, saltato fuori da un letto antico, mi avvicinai ad una finestra oscurata da una tenda, che lasciava filtrare la luce del sole attraverso piccoli vetri spessi. Il corno smise di suonare mentre guardavo nel cortile sottostante. Un uomo che avrebbe potuto essere il fratello dei due falconieri della notte prima stava in piedi in mezzo ad una muta di segugi. Teneva un corno ricurvo legato sulla schiena e con una mano brandiva una lunga frusta. I cani guaivano e uggiolavano, saltellandogli intorno nell'attesa. Nella corte cintata si udiva un rumore di zoccoli. «Montate!» gridò una voce in bretone, e in uno scalpitio di zoccoli due falconieri con i falconi al polso fecero il loro ingresso a cavallo nel cortile unendosi ai segugi. Poi udì un'altra voce che accelerò i battiti del mio cuore. «Piriului! Comanda bene i cani e non risparmiare né frusta né speroni. Tu, Raul e tu, Gaston, fate attenzione che l'éperviei non si dimostri niei, e se lo riterrete opportuno, a vostro giudizio, faites courtoisie all'oiseau. Jardinier à noiseau, come il muecchia a stortia né al polso, non è difficile, ma tu, Raul, potresti non trovare così facile tenere a bada quell'agar. Due volte la settimana scorsa ha schiumato au vif e perso la beccade, sebbene sia già abituato alla leur. Quell'uccello si comporta come uno stupido bronchi. Petra n'agane pas si facile. Stavo sognando. Quell'antico linguaggio della falconeria che avevo letto in manoscritti ingialliti. Il vecchio e dimenticato francese del Medioevo stava risuonando nelle mie orecchie, mentre i segugi abbaiavano e i campanelli dei falchi tintinnavano accompagnando il risuonare degli zoccoli sulle pietre. Lei parlò di nuovo in quella dolce lingua dimenticata. Se preferisci prendere il longe e lasciare il tuo agarro bloc, Raul, non avrò nulla da recriminare. Sarebbe un peccato rovinare una così bella giornata di caccia con un sor male addestrato. E si met a baissier. È probabilmente il modo migliore. Se lui donnerà deran, forse ho avuto troppa fretta con quell'uccello, ci vuole tempo per passare alla filiare e agli esercizi d'escap. Il falconiere Raul si inchinò allora sulle staffe e rispose «Se è il piacere di mademoiselle, terrò il falco». «È un mio desiderio», rispose la fanciulla. «Conosco l'arte della falconeria, ma tu devi darmi ancora molte lezioni in fatto di autorserie, mio povero Raul». «Ci è pirì lui, montate». Il cacciatore scomparve sotto un'arcata e un istante dopo ricomparve in sella ad un robusto cavallo nero, seguito da un piqueur, pure a cavallo. «Ah!» gridò lei con gioia. «Presto, Glemarec Vene, presto, presto, affrettatevi tutti! Suona il tuo corno, Sierpidiu!» La musica argentina del corno da caccia riempì il cortile. I segugi uscirono rapidi come il lampo dal cancello e il rumore degli zoccoli dei cavalli al galoppo abbandonò il cortile, facendosi più rumoroso sul ponte elevatoio, per poi smorzarsi gradualmente fino a scomparire in mezzo alle eriche e alle ginestre della brughiera. Odì il suono del corno farsi sempre più distante, fino a quando divenne così impercettibile da essere sovrastato dall'improvviso canto di una lodola alta nel cielo. Sentì di nuovo quella voce giù nel cortile, che rispondeva a qualche richiamo da dentro la casa. «Non rimpiango, la caccia. Sarà sempre una prossima volta. Per ora cortesia verso lo straniero pelagì, ricorda». E una flebile voce giunse tremante da dentro la casa. «Cortoisie». Mi spogliai e mi lavai da capapiedi nella grande vasca di terracotta piena d'acqua gelida che stava sul pavimento di pietra ai piedi del letto. Indi mi guardai intorno in cerca dei miei abiti. Erano spariti, ma su una panca accanto alla porta giaceva un mucchio di indumenti che esaminai stupito. Essendo scomparsi i miei vestiti, non potei fare altro che indossare quel costume, evidentemente messo lì per me mentre i miei indumenti si asciugavano. C'era tutto. Berretto, scarpe e un farsetto da caccia di una stoffa grigio argento. Ma quel vestito attillato e le calzature senza cuciture appartenevano ad un altro secolo ed erano molto simili agli abiti dei tre falconieri visti in cortile. Ero sicuro che non si trattasse dell'ultima moda di nessuna regione della Francia o della Bretagna, ma fino a quando non fui vestito e mi guardai allo specchio posto tra le finestre non mi resi conto di essere abbigliato come un giovane cacciatore del Medioevo piuttosto che come un bretone dei giorni nostri. Esitando, presi il berretto. Dovevo scendere a presentarmi in quel modo. Sembrava l'unica soluzione possibile, perché i miei vestiti erano scomparsi e non vedevo alcun campanello in quell'antica stanza per chiamare la servitù. Perciò mi accontentai di togliere una corta penna di falco dal berretto e, aperta la porta, scesi le scale. Accanto al camino, nella grande stanza in fondo alle scale, era seduta una vecchia bretone intenta a filare confuso e rocca. Mi guardò e con un franco sorriso mi salutò in dialetto bretone e io ricambiai in francese sorridendole. Nel medesimo istante fece la sua comparsa la mia ospite, che rispose al mio saluto con una grazia e una dignità che fecero fremere il mio cuore. La sua testolina graziosa dei capelli ricci e scuri era incoronata da un'acconciatura che dissipò tutti i miei dubbi sull'epoca del mio costume. La sua figura snella era rivestita di uno squisito abito da caccia con bordi d'argento e sul polso, protetto da un lungo guanto, portava uno dei suoi amati falchi. Con perfetta semplicità mi prese per mano, mi condusse nel giardino della corte e, dopo essersi seduta a tavola, mi invitò cortesemente ad accomodarmi di fianco a lei. Poi, con quel suo particolare accento, mi chiese come avevo passato la notte e se mi trovava a disagio nell'indossare gli abiti che la vecchia Pelagie mi aveva portato mentre dormivo. Guardai i miei vecchi indumenti e le scarpe che stavano asciugando al sole vicino al muro di cinta del giardino e li trovai detestabili. Erano davvero orribili se paragonati all'elegante costume che avevo indosso. Lo dissi ridendo alla mia compagna, ma lei annui con aria molto seria. «Li getteremo via», disse con voce serena. Ancora in preda allo stupore cercai di spiegarle che non solo mi era impossibile accettare vestiti da chi che sia, anche se per quanto ne sapevo quella poteva essere un'usanza di quella parte del paese, ma per di più avrei fatto una ben misera figura se fossi tornato indietro indossando i panni di cui ora ero rivestito. Le rise scosse graziosamente il capo, dicendo qualche cosa in francese antico, che non compresi. Nel frattempo era giunta a Pelagy con un vassoio sul quale troneggiavano due scotelle di latte, una pagnotta di pane bianco, frutta, un piatto con un pezzo di favo stillante miele e una caraffa di vino rosso sangue. «Come vedete non ho ancora fatto colazione perché desideravo che voi la faceste con me, ma ora sono davvero molto affamata», disse la fanciulla sorridendo. «Preferirei morire piuttosto che scordare una sola delle vostre parole», proruppi con le guance in fiamme. «Penserà che sia pazzo», aggiunsi tra me, ma lei si voltò verso di me guardandomi con gli occhi scintillanti. «Ah», mormorò. «Vedo dunque che Messiae conosce bene cosa sia la cavalleria». Si fece il segno della croce e spezzò il pane. Io restavo seduto e le guardavo le mani bianche senza osare alzare lo sguardo su di lei. «Non mangiate?» mi chiese. «Perché sembrate così turbato?» «Ah, perché?» Ora lo sapevo. Sapevo che avrei dato la vita per sfiorare con le labbra quelle palmerose. In quel momento seppi che fin dal primo istante in cui avevo guardato quei suoi occhi scuri, là nella brughiera la notte prima, mi ero innamorato di lei. La mia immensa e travolgente passione mi rendeva incapace di parlare. «Vi sentite a disagio?» mi chiese ancora. Allora, come un uomo che pronuncia la sua stessa condanna risposi con un filo di voce, «Sì, sono a disagio perché vi amo». E mentre lei restava immobile e non rispondeva, la stessa forza che muoveva le mie labbra come se non fossero mie mi rese ardito e dissi, «Io che sono indegno del più piccolo dei vostri pensieri, io che abuso della vostra ospitalità e ripago le vostre cortesie con la mia sfrontata presunzione, ebbene, io vi amo». Ella poggiò il viso tra le mani e rispose in un soffio, «Io vi amo. Le vostre parole mi sono molto care. Io vi amo. Allora vi conquisterò». «Conquistatemi», mi rispose. Ma per tutto quel tempo ero rimasto seduto a guardarla senza proferire parola. La fanciulla, anche lei silenziosa, con il dolce viso appoggiato al palmo della mano, era rimasta seduta. Mentre i suoi occhi guardavano i miei mi accorsi che né lei né io avevamo pronunciato parole umane e che solo la sua anima aveva risposto alla mia, e mi avvicinai, avvertendo la giovinezza e le gioie dell'amore scorrermi nelle vene. La fanciulla, il cui volto incantevole aveva acquistato un colore luminoso, sembrava che si fosse appena risvegliata da un sogno e i suoi occhi cercavano i miei con uno sguardo interrogativo, che mi faceva tremare per la felicità. Facemmo colazione parlando di noi. Le dissi il mio nome e lei il suo, la demoiselle Jean Dix. Mi parlò della morte di suo padre e sua madre, dei diciannove anni passati nella piccola fattoria fortificata, sola con la sua nutrice Pelagy, Glemeret-Crenet, il piccheur, e i quattro falconieri Raoul, Gaston, Astour e Sirpiriou-Louis, che avevano servito suo padre. Non si era mai allontanato dalla brughiera, non aveva mai visto anima umana prima di allora, ad eccezione dei falconieri e di Pelagy. Non sapeva com'era venuta a conoscenza di Kerselec, forse erano stati falconieri a parlargliene. Conosceva le leggende del loup-garou e di Jean Laflame, grazie a Pelagy. Sapeva ricamare e filare il lino. I falchi e i segugi erano le sue uniche distrazioni. Quando mi aveva incontrato in mezzo alla brughiera, si era così spaventata da essere quasi svenuta al suono della mia voce. In verità, aveva visto delle navi dalla sommità della scogliera, ma fin dove i suoi occhi potevano spingersi quando galoppava nella brughiera, non c'era traccia alcuna di presenza umana. C'era una leggenda che le raccontava la vecchia Pelagy, secondo la quale chiunque si fosse perduto nella selvaggia brughiera inesplorata non avrebbe più fatto ritorno, perché quella terra era fatata. Non sapeva se la cosa fosse vera e non vi aveva mai badato fino al momento del nostro incontro. Non sapeva se i falconieri non fossero mai usciti da quella terra o se avrebbero potuto farlo qualora lo avessero desiderato. I libri che si trovavano nella casa e su cui Pelagy le aveva insegnato a leggere erano vecchi di centinaia di anni. Mi disse tutto ciò con una dolce serietà quale raramente avevo visto se non nei bambini. Trovò il mio nome facile da pronunciare e insistette nel dire che poiché esso era Philip, dovevo avere per forza antenati francesi. Non sembrava curiosa di sapere altro del mondo esterno e pensai che tale disinteresse poteva forse dipendere da una certa disaffezione sull'argomento, dovuta alle storie che le aveva raccontato la sua balia. Rimanemmo seduti mentre lei gettava chicchi d'uova agli uccellini dei campi che senza alcun timore zampettavano ai nostri piedi. Cominciai a parlarle in modo vago della mia partenza, ma non volle ascoltarmi e prima ancora di sapere come, le avevo già promesso di restare per una settimana e di andare a caccia insieme a lei con Falchi e Segugi. Otteni anche il permesso di tornare ancora da Kerselec a farle visita dopo la mia partenza. Perché, disse con fare innocente, non so cosa farei se non tornaste più. E io, sapendo di non avere alcun diritto di turbarla con l'improvvisa emozione che le avrebbe procurato una dichiarazione del mio amore per lei, restavo seduto in silenzio, quasi temendo di respirare. «Tornerete spesso?» mi chiese. «Molto spesso», risposi. «Ogni giorno?» «Ogni giorno?» «Ah!» disse con un sospiro. «Come sono felice! Venite, andiamo a vedere i miei Falchi!» Si alzò, mi prese per mano con un infantile, innocente senso di possesso, e insieme passeggiammo in giardino, tra gli alberi di frutta, fino ad un prato erboso costeggiato da un ruscello. Sul prato erano sparsi quindici o venti ceppi d'albero parzialmente sepolti nell'erba, e sopra ciascuno di essi, eccetto due, erano posati i Falchi. Ogni uccello era legato al tronco da sottili corregge unite a loro volta a rivetti d'acciaio fissati alle loro zampe poco sopra i rostri. Un piccolo ruscello di limpida acqua disorgente scorreva serpeggiando a poca distanza da ogni posatoio, probabilmente per consentire agli uccelli di abbeverarsi. Gli uccelli presero ad agitarsi all'avvicinarsi della fanciulla, che subito passò da uno all'altro accarezzando uno, posandone un altro per un istante sul polso, occhinandosi per sistemare i loro geti. «Non sono stupendi», disse. «Ecco, questo è un falco gentile. Lo chiamiamo ignoble perché cattura la preda con una caccia diretta. Quest'altro è un falcone azzurro. In falconeria lo definiamo noble perché si alza sopra la preda e poi, volteggiando, si cala dall'alto per catturarla. L'esemplare bianco è un girfalco del nord, anch'esso è noble. Qui è uno smeriglio e questo Thierselais è un cacciatore di aironi». Le chiesi come avesse imparato l'antico linguaggio della falconeria. Non lo ricordava, ma pensava che suo padre glielo avesse insegnato quando era molto piccola. Poi mi condusse via e mi mostrò i piccoli falchi ancora nel nido. «In falconeria li chiamiamo Naïs», mi spiegò. «Un bronché è un uccello giovane che ha appena lasciato il nido e può solo svolazzare da un ramo all'altro. Un giovane rapace, che non ha ancora fatto la muta, prende il nome di Sor. E un muè è un falco che ha mutato in cattività. Quando catturiamo un falco selvatico che ha già mutato, il suo piumaggio lo definiamo un agar. Raúl è stato il primo ad insegnarmi ad addestrare un falco. Vuoi che ti insegni come si fa?» Si sedette sulle sponde del ruscello tra i falconi e io mi sdraiai ai suoi piedi ad ascoltare. Allora la demoiselle dì si sollevò un dito dalla punta rosa e cominciò a dire con tono grave. «Per prima cosa, si deve catturare un falcone». «Io sono già vostro», risposi. «Lei rise graziosamente e mi spiegò che il mio dressage sarebbe stato difficile, perché io ero un noble». «Ma sono già addomesticato», risposi, «con i geti e i campanelli». Rise di nuovo, deliziata. «Oh, il mio bravo falcone, dunque ritornerete al mio richiamo». «Sono già vostro», risposi in tono grave. Lei rimase in silenzio un momento, poi mentre un delizioso rossore si diffondeva sulle sue guance alzò di nuovo il dito dicendo «Ascoltatemi, desidero svelarvi i segreti della falconeria». «Vi ascolto», contessa Jean d'Isse. Ma di nuovo prese a fantasticare e i suoi occhi parvero contemplare qualche cosa al di là delle nuvole estive. «Philippe», disse alla fine. «Jean», sussurrai. «Questo è tutto, questo è ciò che desideravo», sospirò. «Philippe e Jean». Allungò la mano verso di me e io la sfiorai con le labbra. «Conquistami», disse, «ma questa volta furono il corpo e l'anima a parlare all'unisono». Dopo un istante la fanciulla riprese a parlare. «Parliamo ora della falconeria». «Cominciate», risposi. «Abbiamo catturato il nostro falcone». Allora Jean d'Isprese la mia mano tra le sue e mi raccontò con quale infinita pazienza si deve insegnare ad un giovane falco a posarsi sul polso, di come a poco a poco lo si debba abituare a campanelli e geti e allo chaperone a cornette. «Prima di tutto devono avere un buon appetito», disse. «Poi, poco alla volta, bisogna ridurre la loro razione. È ciò che nell'arte della falconeria si chiama pat. Quando, dopo molte notti passate au bloc, come gli uccelli che vedete, riesco a convincere la gara, a restare calmo sul mio polso, allora l'uccello è pronto per essere addestrato a venire a prendere il cibo. Io pongo il pat all'estremità di una corda chiamata l'heure e insegno all'uccello a venire da me non appena inizia a far roteare la corda intorno alla testa. Dapprima si lascia cadere il pat quando il falco è vicino, permettendogli di mangiare a terra. In seguito, imparerà ad afferrare la leur al volo mentre si fa roteare o la si trascina sul terreno. A questo punto diventa facile addestrare il falco a cacciare la selvaggina, ricordando sempre di fare courtoisie all'oiseau, cioè bisogna permettergli di assaggiare la preda. Le gride improvvise dei falchi la interruppero e si alzò per liberare il longe che si era attorcigliato al tronco, ma l'uccello continuò a battere le ali e a gridare. Che succede? Philip, riuscite a vedere qualcosa? Mi guarda intorno e in un primo momento non vini nulla che potesse giustificare quell'agitazione che andava aumentando e che stava via via coinvolgendo tutti gli uccelli. Poi il mio sguardo si posò su una roccia piatta accanto all'uscello da cui la fanciulla si era alzata. Un serpente grigio si stava muovendo lentamente sopra il masso e gli occhi nella sua testa triangolare brillavano come giaglietto. Una culave, disse quieta. È innocuo, vero? chiesi. Lei indicò la nera che ornava il collo del rettile. È la morte certa, disse. È una vipera. Restammo a guardare il rettile che strisciava lentamente sopra la roccia liscia, diretto dove la luce del sole aveva creato una zona calda. Mi avvicinai per esaminarlo, ma ella mi strinse con forza il braccio, gridando «No, Philip, ho paura». «Per me?» «Per te, Philip, perché ti amo». Allora la presi tra le braccia e la baciai sulle labbra, ma tutto quello che potei dire fu «Jean, Jean, Jean». E mentre la sentivo tremare contro il mio petto, qualcosa tra l'erba mi colpì al piede, ma non ci feci caso. Poi di nuovo mi sentì colpire alla caviglia e un intenso dolore si diffuse per le mie membra. Guardai il dolce viso di Jean d'Isse e la baciai prima di sollevarla tra le braccia con tutte le mie forze e so spingerla lontano da me. Poi, chinatomi, strappai la vipera dalla caviglia e la schiacciai sotto il tallone. Ricordo di essermi sentito sempre più debole e stordito. Ricordo di essere caduto a terra. Con lo sguardo sempre più velato vidi il volto pallido di Jean sopra il mio, e quando la luce dei miei occhi si spense, riuscivo ancora a sentire le sue braccia attorno al collo e le sue morbide guance che premevano sulle mie labbra contratte. Quando riaprì gli occhi mi guardai intorno spaventato. Jean era scomparsa. Vidi il ruscello e la roccia piatta, vidi la vipera schiacciata nell'erba accanto a me, ma i falchi e i blocchi erano scomparsi. Balzai in piedi. Il giardino, gli alberi da frutta, il ponte levatoio e la corte cintata di mura, tutto era svanito. Guardavo come ipnotizzato un mucchio di rovine grigiastre, ricoperte di edera in mezzo a cui crescevano alcuni grossi alberi. Avanzai lentamente tra quelle rovine, trascinando il piede intorpidito, e mentre mi muovevo, un falco spiccò il volo dalla cima di uno di quegli alberi, salendo alto nel cielo in cerchi stretti e diventando sempre più piccolo, fino a svanire tra le nuvole. «Jean! Jean!» urlai, ma la voce mi morì sulle labbra e cadde in ginocchio tra l'erba. «E come volle il Dio?» senza saperla. Mi ritrovai inginocchiato davanti ad una lapide corrosa, scolpita nella pietra e dedicata alla Vergine addolorata. Vidi il volto triste della Vergine inciso nella fredda pietra. Vidi la croce e le fine ai suoi piedi e sottolessi, pregate per l'anima della demoiselle Jean d'Isse, morta nel fiore della giovinezza per amore di Philippe, uno straniero. Anno domini, 1573. Ma sopra quella gelida lastra giaceva un guanto femminile ancora tiepido e profumato.